Oggi, oggi, bella giornata ancora, autunnale, sole, fa meno freddo di ieri, 12.20 o partenza per Tirano, al binario 6, sono esattamente in questo momento alla stazione centrale, bellissime giornate di autunno, mai vissuto un periodo così bello nel periodo autunnale e devo dire che quel display là ci sono tante indicazioni che mi portano nei vari luoghi, ma io in questi giorni ho preferito seguire la mia traiettoria, prendendo il solito treno, eccolo qua, tirano il display e tra poco salgo. Oggi sono in anticipo, evviva, sono in direzione verso Dorio, sì, vado a vedere la chiesina di San Giorgio perché mi aprono finalmente una fresca in quella chiesina per vedere del 1400, una fresca all'interno di quella chiesina medievale, ho l'opportunità di vederlo oggi. Tra poco salgo, ecco la mia direzione verso Tirano, scendo Mandello dell'Ario, poi prendo il treno regionale per Dorio, poi da quel paese vedo cosa fare. Già fatto la spesa, ok, via alla vita, via alla partenza, viva la vita!